perfetto allora eccoci qua la sciarpa è proprio un tocco di classe che ci voleva allora siamo qui diciamolo diciamolo così rapido rapido per pubblicizzare l'uscita di Spinoza Rosso Sangue finalmente finalmente un editore si è accorto di noi abbiamo trovato un mecenate si è accorto del tipo come uno che dice non è un mecenate perché vuole essere pagato da voi naturalmente pochissimo però a noi non ci fa pagare quindi è un mecenate possiamo dire possiamo dire delos digital stiamo pubblicando con la delos digital il nostro mecenate si chiama silvio socio e io gli voglio rendere omaggio perché ha avuto il coraggio nonché la sfrontatezza di pubblicare l'imprudenza e l'imprudenza forse anche l'istinto suicida di pubblicare anche un appunto di autolisionismo e chi lo sa forse anche un accenno di follia ci vogliamo parlare sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie esatto però se volete acquistare l'ebook dovete andare semplicemente sul sito di delos digital che non ci vuole niente a trovarlo e vedere che potete fare di buona volontà per comprare questo affare spinosa rosso sangue non lo so veramente io se tutto ciò è inane o non inane tutto ciò mi lascia totalmente indifferente perché tanto ormai per noi siamo faiati non c'è speranza è la fine è la fine è lei è lei vabbè non date retta al damico comprate spinosa rosso sangue con l'ottimismo e l'allegria nel cuore tanto ormai la settimana che permetteva 0,99 centesimi fino al 13 0,99 centesimi 0,99 euro 0,99 euro sì ma ormai è quasi scaduto perché la prima settimana fino al 13 siete in tempo mancano 5 giorni e come dire in maniera totalmente disinteressata vi dirò che questo è un bel romanzo che è si parla la pena di leggere e anche delle scene molto violente beh se lo dice lei siamo convinti anche con delle sparatorie anche con un po' di sesso e anche accoltellamenti che un accoltellamento ci vuole sempre come i più grandi maestri di scrittura vivono anche nelle scuole di scrittura creativa l'accoltellamento è come la panna sulla sagra torte non è vero vabbè vabbè dai da solo per il titolo spinosa rosso sangue ma dopo lo trovate un titolo del genere avete mai sentito un titolo del genere? non credo non credo siamo i primi a dare un titolo del genere ma meno male meno male spinosa rosso sangue imprimetevelo nella vostra coscienza per la vostra chiandolo pituitaria nel vostro tessuto cingolato e compratelo vabbè ok spinosa rosso sangue vi promettiamo che torneremo online l'abbiamo promesso diciamo che abbiamo avuto qualche contrattempo ma Bulgakov lo faremo Bulgakov, il maestro e Margherita ne parleremo siamo quasi pronti siamo quasi pronti quasi quasi l'amico è pronto sono sempre pronto è nato pronto io io sono nato nel tronto io sono quasi pronto ma allora ricordatevi spinosa rosso sangue Delos Digital fate una ricerca è perfetto è perfetto così come l'ha detto lei è perfetto non si può sbagliare arrivederci arrivederci grazie a tutti